Si rimescolano le carte a Palazzo di Città, il sindaco di Foggia, Franco Landella, oltre a cercare la via per ritrovare il consenso dei suoi, sta facendo i conti anche con gli scranni vuoti. Sì, perché presidente del Consiglio a parte, restano ancora da coprire la casella dell'assessorato alle politiche sociali e quella lasciata vuota dal consigliere leghista Alfonso Fiore. A prendere il posto di quest'ultimo è ormai certo che sarà il primo dei non eletti del partito di Salvini, ovvero Paolo Latorre, che per sedere fra i consiglieri dovrà però rinunciare all'assessorato all'urbanistica. Se le cose andranno così, Latorre potrebbe ritrovarsi addirittura candidato alla presidenza, così come vogliono voci di corridoio dell'ultimora che il diretto interessato ha però smentito. In attesa del risponso, con una nota stampa, i popolari pugliesi continuano a chiedere le dimissioni di massa e a rispedire al mittente il contentino dell'assessorato alle politiche sociali, ma anche a sostenere che il Presidente, in virtù del suo ruolo di garante, debba essere liberamente scelto tra le formazioni consigliari che non facciano parte della maggioranza. Come a dire, in politica tutto è concesso.